Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Carissimi bambini, entrate con me nella cappella dove Gesù è presente nel Santissimo Sacramento. Entriamo in questa cappella e in questo secchiello c'è dell'acqua benedetta. Prima di cominciare a pregare, sarebbe bene che anche voi teneste in casa vostra un po' di acqua benedetta. Venerdì prossimo, in diretta, su Radio Domina Nostra, io benedirò anche l'acqua insieme agli altri sacramentali e agli oggetti di pietà. Intingo un po' la mano nell'acqua benedetta e mi segno col segno della croce. Fatelo anche voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fermiamoci davanti al tabernacolo dove è presente il Signore e facciamo una genuflessione. Scendiamo col ginocchio destro fino a terra e ci rialziamo. Dite anche voi questa preghiera. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Salutiamo anche Maria, rappresentata da questa bella immagine del suo cuore immacolato. E diciamo un'Ave Maria per i vostri genitori e le persone care. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un'altra Ave Maria la diciamo per il Santo Padre benedetto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Infine, un'altra Ave Maria per tutti i bambini, specialmente quelli che soffrono di più. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci inginocchiamo davanti a Gesù di nuovo. Facciamo scendere il ginocchio destro fino a terra e poi ci rialziamo. E adesso andiamo a fare il nostro primo incontro di catechismo, la dottrina cristiana. Venite al tavolo con me per l'incontro di catechismo. Ecco, abbiamo qui una statuetta, come potete vedere, di Benedetto XVI, il quale dal luogo in cui si trova, cioè dal monastero Mater Ecclesia in Vaticano, sempre prega per noi e ci manda le sue benedizioni. Ora iniziamo questo incontro dal titolo Dio Creatore e Signore. Questo è il titolo dell'incontro. Io vi inviterei a tenere un quaderno. Io ne ho uno qui. Guardate un quaderno nel quale, nella prima pagina, scrivete La dottrina cristiana. In fondo il vostro nome e cognome. Poi dentro, sfogliando, ecco magari non usate il pennarello troppo grosso perché passa attraverso il foglio. Dentro poi riportiamo alcune cose degli incontri che faremo. Ma oggi l'incontro si intitola, come vi dicevo, Dio Creatore e Signore. Cominciamo da questa illustrazione. Cosa vedete in questa illustrazione? Vediamo Dio rappresentato da questo uomo anziano con la barba lunga ma molto agile, solenne, circondato dai pianeti, dalle stelle, dalle nuvole. Perché oggi parliamo proprio di Lui e parliamo del creato. Cos'è il creato? È l'insieme di tutte le cose che esistono. Tutte le cose che esistono sono state create da Dio. Provate, bambini, a chiudere gli occhi e a pensare che cosa c'era prima del mondo, prima del sole, prima della luna, prima che fossero creati i pianeti, le nuvole, le stelle. Che cosa c'era? C'era solo Dio. Non c'era nient'altro. Provate a immaginare, ad occhi chiusi, niente con Dio. Solo Dio era presente. Non c'era niente. Ma a un certo punto Dio ha deciso di creare tutte le cose che noi vediamo. Non solo i pianeti ma anche, ecco vi faccio vedere l'altra illustrazione, gli animali, le piante, infine anche l'uomo. Dio ha creato anche gli angeli, ma ne parleremo un'altra volta. Le cose che Dio ha creato sono bellissime. Provate a guardare in questi giorni, ci stiamo avvicinando alla primavera, a guardare i fiori nei campi. Prendetene uno in mano e guardatelo. Quanto è bello. Guardate anche gli animali colorati, dalle forme più belle, animali domestici, animali selvatici, piante di ogni specie. Se le cose create sono così belle, quanto dovrà essere più bello ancora il loro creatore? Se le cose create sono state fatte così bene, quanto sarà intelligente molto di più il loro creatore. Dio a un certo punto ha deciso di creare tutte le cose che esistono. e come le ha create bambini? Le ha create semplicemente con un suo pensiero. Ecco, mentre gli uomini per costruire una cosa, facciamo un'esempio, facciamo un'esempio, un'automobile, un'automobile, o qualsiasi altra cosa, hanno bisogno di lavorare tanto e di utilizzare, per esempio, per fare un mobile, di utilizzare del legname, dei chiodi, martelli, attrezzi vari, il Signore per fare tutto l'universo con un semplice atto della sua volontà, con una semplice parola, ha fatto tutto. Egli è onnipotente, vuol dire che può tutto. Diciamo anche un'altra cosa, è creatore. Cosa vuol dire creatore? Solo Lui è creatore. L'uomo inventa, l'uomo scopre, ma solo Dio crea, crea dal nulla. Solo Dio è capace di creare le cose dal niente, con un semplice atto della sua volontà. Questo significa creatore. E poi è Signore, perché tutte le cose sono sue. Tutto è suo. Niente è dell'uomo. Lui è il proprietario di tutto il mondo. È il Signore. Tutto ciò che abbiamo noi, in realtà, ci è stato donato da Dio, ma Lui è il padrone, è il Signore di ogni cosa. Ecco, carissimi bambini, io volevo soltanto suggerirvi queste poche idee. Vorrei che voi, nel quaderno, scriveste questa domanda. la domanda. Guardate. La domanda in grassetto. Chi è Dio? Scrivetelo sul vostro quaderno in una pagina. e anche la risposta. Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Vorrei anche che imparaste a memoria questa frase. Ripetetela. Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Creatore e signore, ve l'ho spiegato prima, perché? Creatore perché crea da nulla, signore perché tutto appartiene a Lui, Perfettissimo cosa vuol dire? Vuol dire che in Lui non ci sono difetti, non ci sono limiti. Egli è perfetto, perfettissimo. È l'essere perfettissimo. Solo Lui è perfetto. Tutte le creature sono imperfette e limitate. Ripetiamo insieme. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Questa settimana, carissimi bambini, dovete imparare a memoria questa domanda e questa risposta. Poi andiamo avanti. Leggiamo insieme. Che cosa dici a chi ti fa un dono? Se uno ti fa un regalo, cosa rispondi? Cosa dici? Dici grazie. Pensa allora quanti doni ci ha fatto Dio. Quindi in questa settimana fate anche un'altra cosa. Nelle vostre preghiere personali ricordatevi sempre di ringraziare il Signore per le cose che vi dà. ecco, non aggiungo altro se non che prendendo il vostro quaderno da una parte scrivete da una parte scrivete la domanda chi è Dio e la risposta. dall'altra potete fare un disegno colorato dando sfogo alla vostra fantasia e anche alla vostra abilità nel disegno per rappresentare Dio che crea l'universo che crea tutte le cose che esistono nel mondo. Ed ora chiudiamo questo questo incontro di catechismo con un saluto di nuovo rivolto a Gesù nella Santissima Eucarestia. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento Dolce cuore del mio Gesù fa chiotami sempre più dolce cuore di Maria sii la salvezza dell'anima mia. Arrivederci alla prossima puntata in nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen.